San Girolamo, Morosini, Trentin e Giulio Cesare sono gli istituti al centro degli obiettivi della task force voluta dal prefetto Cuttaia per sbrogliare la matassa polverosa, il caso di dirlo, delle scuole sporche. Una settimana di visite e dispezioni del gruppo composto da un funzionario di Manutencoop, dal dirigente scolastico della scuola che si è visitata e da funzionari dell'ufficio scolastico e provinciale. Obiettivo verificare le segnalazioni di circa 30 scuole che hanno trovato problemi con i nuovi contratti della Manutencoop che tagliano le ore di lavoro in maniera sostanziale, costringendo le addette alle pulizie a pulire gli istituti e le classi in neanche un'ora al giorno. Dopo le ispezioni a Venezia e Mestre oggi è stata la volta delle zone calde con Mira, Marcone e Chirignago. Mira in effetti è il punto zero della vicenda che ha visto visite di parlamentari del 5 Stelle, le ispezioni dell'ULS, le scuole chiuse per la mancanza di pulizie e le proteste in strada degli stessi genitori. La task force dunque alla ricerca della criticità, nell'attesa però che dal Ministero si sblocchino le risorse necessarie ad integrare i contratti per le addette, risolvendo di fatto la vicenda una volta per tutte. Non finiremo mai di ricordarlo però che in tutta la vicenda, oltre alle addette alle pulizie, oltre ai genitori a pagare in prima persona sono proprio i bambini, fra polvere, sporcizia e ambienti insalubri.